Oggi scopriamo insieme come fotografare la cometa C2022-23, venho accennato anche nell'ultimo numero della newsletter. Se non siete iscritti trovate tutto in descrizione. Io vi consiglio di scegliere una località che sia poco soggetta all'inquinamento luminoso, ma soprattutto dovrete fare attenzione anche al meteo. Vi consiglio di utilizzare un'applicazione come Sky Guide che vi permette di osservare nel cielo proprio dove si trova la cometa in questo momento. Per prima cosa quello che ci servirà saranno un treppiedi, una fotocamera che sia una reflex o mirrorless, l'importante che sia manuale, e un obiettivo medio tele. A seconda della lunghezza focale e del diaframma che vi consiglio di impostare nel valore minimo del vostro obiettivo, possiamo sfruttare un'applicazione come Photopills e che ci permette di stabilire il tempo di scatto in modo tale da ottenere delle stelle puntiformi e non mosse. Per quanto riguarda gli ISO invece sarà una vostra scelta, a seconda delle condizioni di luce questo valore potrebbe variare. Fatto ciò vi consiglio di andare a disattivare quella che è la stabilizzazione nel sensore e nella lente, tra è necessario disattivare la messa a fuoco automatica e impostare quella la manuale. Questo è tutto, fatemi sapere se andrete a fotografare o meno la cometa. Ci vediamo alla prossima, ciao!